Musica Lavoratori stretti tra precariato e crisi energetica, la fotografia del mercato del lavoro in provincia di Lucca all'ottavo congresso provinciale CGL, preoccupano settore cartaglio e lapideo. Salvia e Rosmarino dai mozziconi di sigaretta, capanno rimesse a dimora le prime piantine del progetto ecologico che vede come capofila l'Università di Pisa. Presentato l'accordo tra Guardia di Finanza e Comuni, il protocollo sulla partecipazione al centro di un incontro tra il comandante della tenenza di Castelnuovo e di sindaci della Garfagnana. La lucchese sorride, arriva la reggiana, rossoneri attesi venerdì dalla difficile gara interna contro la capolista. Finora la squadra di Maraia si è spesso esaltata contro le grandi, Tiritiello rischia di saltare il big match. Ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale dedicata alle notizie di Lucca, Piana e Garfagnana. Lo avete sentito anche dai nostri titoli di apertura. In primo piano il quadro tracciato all'ottavo congresso provinciale della CGL di Lucca che ha analizzato lo stato di salute del mercato del lavoro sul nostro territorio. Partiamo da qua. Un mercato del lavoro che a livello provinciale ha tenuto testa meglio che altrove in Toscana e in Italia alla pandemia ma che, come accade sul piano nazionale, ora si trova a fare i conti con le criticità dettate dalla crisi energetica e dall'inflazione oltre che con politiche e riforme considerate inique e penalizzanti. È la fotografia del contesto lavorativo sul territorio, restituita dalla CGL di Lucca in occasione dell'ottavo congresso provinciale che ha riunito al Real Collegio i segretari delle diverse categorie assieme a oltre 200 delegati per fare il bilancio dell'attività degli scorsi quattro anni e dettare le linee programmatiche per il prossimo futuro. Questo famoso rimbarso ci doveva essere dopo la pandemia è stato tarpato dalla crisi energetica e questo non ci preoccupa molto. I settori stanno piano piano riniziando a partire dal lapidio sulla costa la nautica è un settore andato sempre bene dal punto di vista del lavoro, delle commesse e quant'altro sicuramente potrebbe andare meglio dal punto di vista delle condizioni dei lavoratori. E poi ci sono settori che storicamente pagano un po', il settore del calzaturiero, del tessile che pagano un po' un'inversione di tendenza, mentre anche a Lucca come in altre parti d'Italia il super bonus ha favorito un po' il mercato dell'edilizia. Gli scenari economici internazionali preoccupano anche il mondo imprenditoriale, particolarmente le industrie del cartario e dell'apideo, tanto rappresentative sul territorio, per le quali il costo dell'energia è un elemento cruciale per la produzione. Non ci sono state ripercussioni in generale dal punto di vista occupazionale, se stiamo governando i processi in modo, sin qui, devo dire, positivo, chiaro che siamo sempre un po' preoccupati per quello che può succedere, perché davvero il prezzo del gas determina anche l'andare fuori mercato o meno delle nostre aziende, con conseguenze ovviamente anche per i dipendenti. E dal momento degli aggiornamenti riguardo all'andamento della pandemia, leggiamo assieme i dati relativi alle ultime 24 ore, sono 1.765 nuovi contagiati a livello regionale, il tasso di positività è al 15,5%, cresce il numero dei pazienti ricoverati nei posti letto Covid, 566, 11 unità in più rispetto alla giornata precedente, mentre cala, seppur di una sola unità, il dato delle terapie intensive, che sono 24. Un decesso, il dato provinciale, sono 219 i nuovi positivi in provincia di Lucca. Restiamo in tema sanità perché un convegno lancia un appello per lo screening preventivo per il tumore al colon. Quello al colon è uno dei tumori che può essere più rapidamente individuato in maniera precoce. Per questo, sottoporsi agli esami screening è ancora di più una efficace pratica salvavita, purtroppo sottovalutata da molti cinquantenni. L'importanza dello screening al colon retto è stata al centro del convegno, svoltosi alla Cappella Guinigi, al quale hanno partecipato specialisti provenienti da tutta Italia. Del comitato organizzatore ha fatto parte anche Giovanni Finucci, direttore della gastroenterologia ed endoscopia digestiva di Lucca e Valle del Serchio. Il tumore al colon retto è una delle neoplasie nel mondo occidentale più importanti per estensione e per mortalità. Questa neoplasia però ci dà una grandissima opportunità che può essere scoperta molto presto. Questo grazie allo screening del colon retto che è attivo in Italia e in particolar modo nella regione toscana da più di vent'anni. Il problema di questo screening è più che altro dell'adesione, purtroppo anche nella città, nel comune di Lucca non è molto alta. L'intento di questo convegno è quello di cercare di trovare delle forme per far sì che questa adesione aumenti perché è una cosa veramente molto importante a dire a questo progetto. La presidente del congresso, Paola Damassa Carrara, ha sottolineato la forte partecipazione all'incontro. Sì, è un convegno regionale che è indetto dalle tre società scientifiche di gastroenterologia che sono la SIE e la SIE e il LAIGO. È un convegno che si ripete ogni anno in maniera itinerante in tutta la Toscana e che per quest'anno, per la prima volta, abbiamo il piacere di ospitare a Lucca. Cambiamo pagina, torniamo ad occuparci del nuovo centro sportivo alle Tagliate. È stato un errore dell'amministrazione Tambellini quello di candidare ai finanziamenti del PNRR il progetto del nuovo centro alle Tagliate, lo dicono i gruppi di maggioranza in Consiglio Comunale a Lucca con una nota stampa. Il progetto non era adeguato per quel tipo di finanziamento, si legge nella nota, e si dovevano invece trovare altre risorse. È stato candidato solo per fini elettorali, conclude la maggioranza, senza una visione, una pianificazione sull'impiantistica sportiva. Andiamo a Capannori per un bel progetto che riguarda il riuso dei mozziconi di sigaretta che danno vita a piantine di salvia e rosmarino. Sono state messe a dimora in un'aiuola di Piazza Aldomoro le prime piantine, 8 di rosmarino e 7 di salvia, nate dal riuso di un primo quantitativo di mozziconi di sigaretta raccolti a Capannori grazie al progetto Focus, che prevede proprio la trasformazione delle cicche in risorsa. Accanto all'aiuola è stato posizionato un cartello con la scritta Grazie dei fiori, no mozziconi a terra, ossia lo slogan della campagna di sensibilizzazione lanciata dal Comune che chiede ai fumatori di non gettare le cicche a terra ma di conferirle invece negli appositi contenitori posizionati in prossimità di vari spazi pubblici. Un esperimento riuscito grazie all'università, quello di dimostrare che i mozziconi di sigaretta non sono un rifiuto ma possono diventare un prodotto sul quale nascono le piante. I mozziconi così raccolti attraverso un procedimento termico vengono trasformati in una base biodegradabile per la coltivazione di piante ornamentali e di arbusti. Il progetto è promosso dall'Università di Pisa in collaborazione con il Comune di Capannori e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e deve ancora essere completato per diventare interamente ecologico. Il problema più grosso è risultato essere quello del refluo che deriva dalla pulizia dei mozziconi di sigaretta che ormai riusciamo a degradare in buona parte ma che ancora ha bisogno di ulteriori studi per essere degradato al 100% e quindi per produrre acqua pulita e chiudere questo processo in modo completamente ecologico. Il neocomandante della Guardia di Finanza di Castelnuovo incontra i sindaci della Garfagnana. A poco più di un mese dal suo insiedamento il comandante della tenenza della Guardia di Finanza di Castelnuovo, Gianluca Pierri, ha iniziato un percorso di conoscenza del territorio di competenza. In questa ottica l'incontro che si è svolto presso la sala della Giunta dell'Unione Comuni Garfagnana alla presenza dei sindaci di questo territorio. È stata l'occasione per lo scambio degli auguri ma anche per la presentazione dell'impianto del protocollo d'intesa tra ANCI, IFEL, Istituto per la Finanza e l'Economia Locale della Fondazione ANCI e Guardia di Finanza circa il processo di partecipazione dei Comuni. Anche quest'anno, nel 2022, è stato rinnovato il protocollo d'intesa tra l'amministrazione finanziaria e i Comuni che anche per quest'anno avranno una parte attiva nel processo di accertamento alle entrate tributarie. Il rapporto di collaborazione tra la tenenza della Guardia di Finanza di Castelnuovo sarà esteso anche al Corpo di Polizia Locale che ha competenza su tutti i 14 Comuni dell'Unione Garfagnana e agli uomini della protezione civile in caso di emergenze, come già accaduto nel passato. L'incontro si è concluso con il tradizionale scambio dei guri tra il presidente Tagliasacchi e i tanti sindaci presenti, oltre a quelli collegati via web, ed i rappresentanti della Guardia di Finanza. E Mimmo D'Alessandro mette a segno un altro colpo e porta a Luca Summer Festival la leggenda della chitarra Pat Mitini che salirà sul palco di Piazza Napoleone il 17 luglio. Universalmente riconosciuto come uno dei più grandi chitarristi della storia, vincitore di 20 Grammy Awards in carriera, Mitini porterà al Luca Summer Festival un progetto chiamato Side Eye che ha lanciato quest'anno e coinvolge giovani musicisti di talento. Andiamo a Boveglio per la festa in piazza per la farina di Neccio. Quella di Villa Basilica è una zona di pregio per la produzione della farina di Neccio e il paese di Boveglio in particolare vanta una lunga ed apprezzata tradizione in questo senso. Per questo la locale Proloco, con il patrocinio del Comune, ha lanciato la prima edizione della festa della farina di Neccio che si è svolta in piazza Cristoforo Colombo nel cuore del paese dove è stato possibile assaggiare le ricette più gustose della tradizione preparate con la farina di castagne nuova e curiosare tra gli stand del mercatino artigianale per gli ultimi regali di Natale. Ma cosa serve per produrre una buona farina di Neccio? Beh, innanzitutto ci vuole una buona castagna che qui a Boveglio è la madre naturale per trovare. Poi una buona lavorazione fatta con il classico caniccio dove viene curato da persone che hanno tanta voglia e tanta volontà con il suo fuocarello sotto, tutte le sere viene coltivato e poi arrivare all'essiccazione, poi alla battitura e alla farina di Neccio. Oltre agli assaggi delle prelibatezze del posto in piazza si sono svolte tante attività dedicate ai piccoli truccabini, baby dance, giochi con le bolle giganti e coi palloncini modellabili. Presente anche Babbo Natale che ha distribuito regali e si è concesso per le foto di rito. La festa a Boveglio diventerà un appuntamento fisso? Ci stiamo provando, è la prima volta che l'abbiamo organizzata vedo che la piazza è piena, ha risposto bene la gente e sicuramente il prossimo anno siamo intenzionati a rifarla. Ad Alto Pascio, generazione a confronto al Teatro Puccini Una mattinata di dialogo tra anziani e giovani di Alto Pascio generazione a confronto al Teatro Comunale Puccini per l'iniziativa organizzata dall'Avis locale e dal centro di urno all'Aquilone assieme al comune a cui hanno preso parte tanti studenti dell'Istituto Comprensivo Alto Pascese. Al centro della scena è il video realizzato da Avis che ha portato i giovani volontari all'interno del centro di urno dove gli anziani presenti hanno avuto la possibilità di confrontarsi con i ragazzi e porre loro domande sul percorso di vita e di studi, sulle scelte da fare, sulle uscite serali, sulle prospettive rispetto al lavoro, famiglia, amici, sentimenti e amori. Un dialogo a tutto tondo tra risate, lacrime, riflessioni e voglia di ascoltare centrando appieno l'obiettivo dell'incontro volto ad assicurare una relazione tra le generazioni per offrire un arricchimento emotivo e culturale attraverso le esperienze e le storie di tutti. Si terrà giovedì alle 21 presso Villa Bertelli a Forte dei Marmi il concerto Note di Natale della soprano Francesca Maionchi accompagnata al pianoforte da Cesare Goretta. La brava artista altopascese si esibirà su aria d'opera canzoni e brani natalizi. L'evento è organizzato dall'Associazione Culturale Lirica Oggi e sarà anche l'occasione per scambiarsi gli auguri di buone feste. In chiusura una notizia di sport con la lucchese che attende la sfida al Porta Elisa contro la formazione Granata. Arriva la capolista reggiana? Bene, anzi meglio. Lo possiamo dire sulla base di un girone di andata che ha visto la lucchese esprimersi al meglio proprio contro le squadre più forti del torneo. Prendete l'ultimo periodo, ovvero da un mese o poco più a questa parte, è il 13 novembre quando i rossoneri vanno ad espugnare il Franchi di Siena. Partita preparata in modo perfetto da Maraia che imbriglia sul piano tattico il dirimpettaio Pagliuca e risolta in avvio di ripresa da un perentorio contropiede avviato da Franco, rifinito da Visconti con un no-look a lanciare in contropiede Bruzzaniti che c'è dall'anni per il punto che vale un successo di enorme valore a scacciare una crisi strisciante e pericolosa. Ma sulla scia della vittoria di Siena tutto questo non si vede. Arrivano infatti le sconfitte contro Gubbio e Fermana, però alla sedicesima, martedì 29 novembre al Porta Elisa, i rossoneri mietono un'altra vittima illustre e sempre nella condizione iniziale di sfavoriti. Partita giocata in modo esemplare dalla lucchese, forse la più bella di tutto il girone di andata. Il risultato di 1-0 non deve trarre l'inganno perché prima della zampata decisiva di Franco al quarto d'ora della ripresa, la squadra di Maraia costruisce e getta al vento diverse occasioni, sicché pure il Cesena, considerato a ragione una delle compagini più forti del girone B, cade sotto la mannaia della Pantera a Mazzagrandi. E poco ci manca che dopo soli quattro giorni, sabato 3 dicembre, lo scherzetto non riesca anche a Chiavari. La Virtus Entella di Gennaro Volpe soffre e non riesce a venire a capo della corta disposizione tattica della lucchese, che anzi alla mezz'ora del primo tempo si porta in vantaggio sul calcio di rigore, che Mastalli trasforma proprio sotto lo spicchio di curva, dove sono assiepati gli ammirevoli supporters rossoneri. Nella ripresa la lucchese va in sofferenza, ma sembra farcela fino al novantesimo, quando Favale sorprende Cucchietti con uno shoot al volo. Pallone entrato, il dubbio rimane, ma la rete viene convalidata. Sfuma così un altro colpaccio, magari, chissà, solo rinviato a venerdì sera. E con questa notizia chiudiamo il nostro spazio dedicato all'informazione di Lucca, Piana e Garfagnana. La linea adesso passa alla redazione di Viareggio e della Versilia.